Nella sala di rappresentanza Palazzo di Città si è tenuta ieri, giovedì 30 maggio, la premiazione degli studenti del centro locale di Brindisi, vincitori del concorso nazionale indetto dall'associazione Intercultura, in partenza per un programma di vita e di studio all'estero. A fare i saluti istituzionali il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Ventrella, che ha moderato gli interventi dei rappresentanti del centro locale di Intercultura di Brindisi. Continua il partenariato tra l'amministrazione e Intercultura perché crediamo molto in quello che è lo scambio interculturale dei ragazzi che sono praticamente il nostro futuro, quindi oggi ci ritroviamo nella sala consigliare a dimostrare la nostra vicinanza a chi, e quindi ai ragazzi, utilizza questi mezzi di conoscenza che sono appunto lo scambio culturale, il fatto di viaggiare in tanti stati del mondo. Oggi ci sarà la premiazione, che è una premiazione fondamentalmente simbolica, ma serve a dire forza ragazzi, siamo con voi, siete il nostro futuro. Allora oggi con la nostra associazione Intercultura siamo arrivati al termine del percorso, oggi premeremo i ragazzi che hanno partecipato alla borsa di studio, nel centro locale di Brindisi, abbiamo sei ragazzi, due partono per un programma annuale in Thailand e in Brasile, mentre un'altra ragazza partirà per un trimestre in Canada, invece abbiamo anche tre ragazzi che partiamo per un programma estivo, due andranno in Irlanda e una in Danimarca. Il percorso è stato abbastanza impegnativo perché i ragazzi comunque hanno dovuto fare delle prove, degli incontri di formazione, però tutto è andato per il meglio. I ragazzi che sono arrivati alla fine del percorso comunque hanno meritato e sono stati veramente in gamba. E oggi qui, grazie all'ospitalità del comune di Fasano, effetteremo la premiazione al Palazzo di Città. Da quanti anni prosegue questa iniziativa? Allora, l'associazione Intercultura è un'associazione molto vecchia perché sono ormai 60 anni che in Italia promuove questi scambi di invio e ospitalità per studenti italiani e stranieri. Nel comune di Fasano da poco è cresciuto questa voglia di ospitare e di far partire i ragazzi, infatti la famiglia si sta allargando, anche questo inverno abbiamo ospitato altre ragazze dall'Argentina e dal Brasile e pian piano la rete sta aumentando. Io sono sempre del parere e comunque questa è la chiave per la pace, è comunque partire dagli studenti, dallo scambio interculturale, farli girare per il mondo, nella speranza che in un futuro quelli che tra loro diventeranno i dirigenti del mondo si ricorderanno che hanno comunque viaggiato, hanno conosciuto altri posti, hanno vissuto altre esperienze con famiglie diverse e si sono resi conti che siamo tutti cittadini globali. Vogliamo spiegare ai nostri lettori come si fa a partecipare a questi scambi culturali? Il percorso è molto facile ed è accessibile a tutti per quanto riguarda l'associazione intercultura perché ci sono a bando delle borse di studio anche per coloro che non si possono permettere ovviamente di affrontare una spesa abbastanza onerosa perché ovviamente anche per gli anni all'estero i costi sono alti. Si partecipa iscrivendosi a settembre, a questo programma che prevede diversi ovviamente pacchetti, ci sono i programmi semestrali, annuali, trimestrali e anche i programmi estivi. E poi il percorso non è che ti garantisce la partenza perché ovviamente bisogna superare delle prove, bisogna avere dei voti buoni a scuola e fa fede anche poi quello che è il reddito per ambire le borse di studio. Ovviamente ci sono anche diversi partner esterni che partecipano e danno dei contributi a intercultura come per esempio l'Inpes stessa o alcune banche, alcune fondazioni, quindi si può anche accedere tramite borse di studio forniti da parte dell'esterno.